Giacomo, la superiore fuma il sigaro, fumasse solo il sigaro, se per quello fuma anche altre cose. Cosa fuma? La pipa, cosa vuoi che fumi? Le canne? Perché fuma le canne da pesca? Ma no, le canne da pesca, le canne quelle che... Allora, giochiamo? Giacomo, Martino, ma se esce, mi mandi i bacini mentre giochiamo a carte, ma dai. Ma quali bacini? Ti sto segnando che c'ho l'asse. Ma scusa, parli con un professionista, l'asse si fa così, un colpettino secco, hai fatto... Quello è un poker, stiamo giocando a briscola. Allora, a chi tocca? Tocca a me. Eh? Lei beve il vino, noi l'acqua.